Un banner Eh già partiva Ho messo marco e va via Guarda te Malducato Beh c'era bisogno di mettere a posto quell'angolino sotto il coso Eh? C'era bisogno di mettere a posto l'angolino Eh mi dava sti perché mia sorella oggi si è messa qua a guardare Spider Me ne ha tirato sul banner Me ne sbatto Non basta fare aggiorno e in teoria riparte La dovrebbe comparire ogni 15 minuti Ho messo tipo una roba di genere E che quando cambi da pre-live a sera O un'altra scena Parte subito Io l'ho messo davanti a tutto Lo tengo No ma lì ci sono le sub Eh vabbè ma lo tieni dietro Dietro l'alert box e via Io l'ho messo dentro la cornice vuota Ah? Sono stato furbo Lo metto sotto l'alert Sono sotto cornice e dentro la cornice quella lì L'ho messo anche sotto gli altri Non mi ricordo di più che proprio le sub fiorano lì effettivamente Ciao a te Grazie Ciao bellezza Ne frite Amici avete fatto degli acquistoni? Sì Io sì Ho copiato Marco Ho stato previdente Riky Mi ha preso la stessa giacchetta Mi sa che mi prenderò qualcos'altro anche perché ho comprato poca roba Io questo mese compro così Allora mi hanno Allora mi ha scritto un ragazzo facendomi vedere i suoi ordini Grande Fatelo solo sapere Taggateci quando arrivano poi E due ragazzi Ben due ragazzi Mi hanno detto che la felpa Quella Yakuza è fighissima È veramente fighissima Due ragazzi Perché c'è il simbolo Che è molto bello anche da vedere Quindi Ho speso un bordo su un bordo Ma mi sa che anche io ci Poi la maglia di Tarlo Quella va presa Perché è quella nuova La novità Novità No ma a parte che Aspetta Vi posso dire anche come sono andati Poi purtroppo Sopportate Tarlo Però Allora il motivo più acquistato È il Sì È il termos Quello La scritta bianca Quella con il rettangolino bianca Ah dove Ah il motivo Il motivo Sì Il disegno più Più acquistato subito Seguito subito da Quello di Tarlo Naturalmente Poi c'è anche C'è la termos rossa Quella Il quadrato tipo Marvel C'è poi c'è il termo visione Che in realtà Il termo visione È quello È a pari con Il termos bianco Perché c'è la versione Bianca e nera Del termo visione Che Il termos Marvel E il termos bianco In realtà io l'avevo pensato Entrambe come scritte Marvel Cioè sono Sì in realtà anche termos bianco Sono tutte ispirate Alla Marvel Ma diciamo che quella di Matt Venga anche venduta meno Perché era già stata venduta Quindi C'è molta gente Già Ovviamente non la riprende Veramente Però La cosa del college No Io vi ho detto Se volete qualcosa Col disegno di Matt Prendete quella del college Perché veramente Tra l'altro Per noi è indifferente Gede Biker Grazie Gede Grazie Gede Benvenuto Uta Chiaramente ci sono Dei capi Che ci fanno guadagnare Un po' di più Dei capi che ci fanno guadagnare Un po' di meno Non è quello l'obiettivo Sostanzialmente Noi puntiamo più che altro A rientrarci nelle spese Ecco Poi se ci guadagniamo di più Tanto meno Non l'abbiamo fatto per i soldi Sicuramente Non l'abbiamo mai fatto per i soldi Però è una cosa bella Che volevamo fare Poi Moro ci si è messo bene D'impegno Poi se diventiamo Ricchi modaioli Vendendo le mani Io ripeto Il Termovisione Secondo me Quello lì è il Io ho preso il cappello nero Con la fascia bianca di visione La felpa rossa E nera Con la scritta termos Tipo Ma per la felpa college All low Allora Allo bravo Qua ci fai Ci fai imbarazzare Quando le cose si fanno bene Ragazzi Alla prossima fiera Andrò con la Cosa di Io andrò nudo Alla prossima fiera Con la mascherina sul pene Ecco Non ci spostano le mascherine Sì Comunque amici Oggi ho notato Che Nella live Nel Marchedì Un sacco di nomi nuovi Che arrivate dalle live Di Di Jimmy Quindi Io vi do il benvenuto A tutti Se ci avete conosciuto Dalle live di Jimmy Ovviamente Ma sei un maleducato Noi non siamo giovanili Come quelli di Melagodo Siamo un po' Ho messo A vendere il cappellino Da Da ganso Ma il cappellino È come quando i vecchi Vogliono fare i giovani Però Scusa C'ho quello Aspetta Aspetta Fai vedere Vado a vedere se ho fatto male O bene Quanta caglia Cioè a me mi viene a dire Che non sono Non l'ho messo Ma ti rendi conto Ma come siamo messi Che stai dicendo Che stai dicendo Ah Quello di Jojo Quello No era di Jojo Sì Questo è di Jojo Sì C'è Jotaro Qua Marco Pasali ci ha 17 e mezzo Sì E l'ho messo in tutti e due Fanta L'ho messo In questo cappellino Ce l'avevo Quando non sapevo Dell'esistenza di Jojo E adesso sono in trepidante Attesa Della parte 6 Che esce Sto mese Io non sono Assolutamente In attesa Della parte 6 Perché non capisci un cazzo Marco Chiaramente Stroncio Giovanni lì Fino anni 80 Va sempre bene Mi sta bene no Perché ho la testa lunga Quindi me la ricopre un po' E sembro Una persona normale Col cappello Eh no Domani dovrebbe uscire La parte 6 anime Domani Nani Domani Ah Bene Oggi cos'è che ho visto Spider-Man 3 Ho iniziato Con mia sorella Ragazzi è vero Domani è Natale Siamo Veramente Da domani Posso fare uno spoiler Rapidissimo Ma rapidissimo Posto Hai già fatto? Sì Ah hai fatto Ho capito cosa ho fatto Ok Dec Ci sono Grazie bello Buonasera Marco Eliezar Scusate Che tipo con il cappellino Sembra simpatico È un tizio Ma è uno che è raccattato Per la strada Da qui Sì Mi hanno chiamato Questa azienda Amici ma noi Tutto dicembre Saremo in home page Vi rendete conto? È vero Dobbiamo pushare E sembrare dei giovani Per questo Ho ritirato fuori Il mio cappellino Così Lego Star Wars È più scontato Aspetta Lo vado a prendere anch'io Lo apro No In realtà lo devo aprire Per appenderlo Credo Non so come è fatto Perché più che altro Perché non so se È secret Ma vendono il Durian Su Amazon E chi cazzo se ne frega Agli Sì ma costa 46 euro No 7 euro Finchia Però devi vedere cos'è Sono i morci al Durian Non so Sono buoni Quelli Depresione che tu fa succedere È Durian Dove fai Se si sa mai I moci fanno cagare di base Ma io già Ma ragazzi Allora Durian Io ho già dato Lo posso Lo posso aprire Cioè aprire nel senso Perché questo qui dovrebbe poi Srotolarsi Diventare un po' più lungo E per l'opendo dietro Tu lo puoi fare Perché non Infatti lo fa Io non lo posso fare No perché il tuo non è da aprire No Io se lo apro si smonta tutto E mi casca tutto per terra Il mio in realtà è da aprire Il mio diventa Il mio tecnicamente diventa La base Cioè Da sfondo Diventa la cosa degli Avengers Oddio Ho aperto Diventa la cosa degli Avengers Però Non lo posso più Grazie Ma il lizard Ma è tutto spoiler Cioè Il lizard Però non Ma il mio è tutto È tutto spoiler Ragazzi Ma è perché sono Ah delle Ma scusate Amoro se c'è la tisana Al cacca Devi berla Non è che Ci mancherebbe Ah vedi c'è anche il cordellino Quindi non è che devi aprire La cosa No semplicemente La sorpresa È nel mio gusto Aspettate che Ma non c'è la sorpresa Che brutto Vabbè il gusto La sorpresa Ad appenderlo Ragazzi ho solo Chopper Solo È un personaggio È un personaggio importante Ho citato One Piece Comunque Vabbè Però è dietro È una citazione involontaria Perenne È molto carino Sì Aspetta È molto carino I personaggi Alcuni Me li spoilerà qui Però vabbè Te li spoilerà tutti I personaggi Che ci sono La confezione Se guardi dietro C'è tutto Mark Sono tutte le sorprese Non voglio guardare Ok Non voglio guardare Oh l'ho messo qua dietro Non voglio guardare Che cazzo però Eh Eh Ma porca miseria Ma dove l'hai attaccato Scusa Nel led Ma secondo me ti viene giù tutto Ma non viene giù una sega Guarda che l'ho montato io Il led Eh l'ho citato Ma è dietro Che devo fare Ok Sono un po' schiacciati Qualcuno Voglio che gli tolgano Non voglio leggere Non voglio leggere Di che cosa Zero tool Che è incazzatissimo Cosa c'è Dice Sei incazzato Ma non ho capito Con chi ne Con cosa Non ho capito niente Voglio che gli tolgano Ste cazzo di taglia di merda Eh Non lo so Non lo so E spiegaci come Ma sei così incazzato Zero No Non ti arrabbiare Dai Ah Non spoilerare Non spoilerare Zero tool Non spoilerare Non spoilerare Comunque Amici Giochiamo un pochino Geogacer Ormai lo tengo Il cappellino Che mi sembra Non facciamo La cosa Facciamo la Battle Royale Perché ormai Faccio Faccio quello che voglio Faccio Io in realtà Preferisco sempre La nostra run Mi sento più Tranquilli Tra di noi Io Faccio quello che voglio Hai capito Va bene Sono Guardi che Sono Eh Un giovane Un giovane scapestrato Oggi Un cappellino Allora Vi vengo a Mostrare il pisello Su disco Ciao È scomparso tutto Perché Ma chi lo sa Dov'è 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 La stanza La stanza Adatta Eccola qua giù Vedete anche voi Per la cortesia Che vi faccio vedere Il mio pipistrello Ecco qua Tanto ragazzi Qua c'è C'è tutto C'è tutto Fammi vedere il culo Grazie Moro Eccolo qui Bene Ah ovviamente Nel corso Di dicembre Sto cercando Giochi di natalizi E anche film natalizi Da vedere su Prime Perché fa schifo Halloween Però per Halloween Tutti pronti È Natale invece Io vorrei veramente Iniziare la maratona Di Harry Potter Ma quelli non sono natalizi Però Beh Ogni film ha una scena natalizia Il più natalizio Che c'è Dopo Di prima Harry Potter E invece c'è la scena natalizia Che è incredibile Amici Vado Come si faceva Ongoing Game Experience Career Discover Career Facciamo la carriera Questa è una per due Non so se è su Prime La carriera Cosa vuol dire Hai sempre questa roba La carriera But Royal Countries Die Stains Duels No Duels No Non me lo sento Allora Quella è quella porta Proprio natalizio Gatto Allora Quella era City Strix Bello Era quello giusto Con lo sbagliato City Strix Quello che piaceva A noi Si ritrova la città Allora lo clicco io Dai facciamo Poi voglio fare anche una run Per i fatti nostri No no Marco No no Marco Sono giovane Oh porca miseria Siamo già partiti Valencia Valencia Che dici Valencia Bravo Lied Ha scritto in alto gigante Non giochiamo da troppo tempo ragazzi Ho perso lo smalto Madonna gatto Ho perso lo smalto Regal Jungle cruise tickets Attenzione Jungle cruise Ma è recentissimo C'è Sembra molto America O America o Inghilterra Inghilterra non c'è America non credo sia New York Questo però In realtà si In realtà si Moro Secondo me si Fai New York Sto guardando anche i vlog Di un ragazzo Che abita a New York È sempre così Sto guardando i vlog Di gente che abita in giro Io guardarei sti cazzo di vlog Marco qui siamo in Olanda Sono le mini Germania Ah porca miseria È vero È quale parte della Germania L'unica che c'è Hamburgo Hamburgo Dove giocava Igero Elia Te lo ricordi Moro Tu Igero Elia Sì giocava nella Finlandia Però È la Grecia No è Russia questa Quindi la Russia O l'Ucraina Potrebbe essere Può essere La Serbia No La Serbia potrebbe essere Perché parlano entrambi È la Serbia Vai con la Serbia Non è la Serbia Guarda di là Ucraina non c'è Può essere la Mongolia Non l'avrei detto io Efrem Mark Bravissimo Zanchos Incredibile Bravissimo Sol Logistics Anton Questo è Singapore Ragazzi Non lo conoscevo Efrem Giapponese Qualcosa Giappone Non era Tokyo Merda Sarà Ah c'era due Porca miseria Rosaca Fanculo Mi sembrava nella Corea Hai visto gatto L'avevano L'avevano tolta Poi l'hanno rimessa Probabilmente è l'unica città Che esiste nel mondo Della Mongolia Quello Australia Può essere Guarda sole un attimo Veloce Il sole è a nord Quindi siamo a sud Può essere effettivamente Guida nel contrario Porca bestia E guarda Australia Nuova Zelanda Non c'è l'Australia Nella Nuova Zelanda Sud Africa Bravo Male Gatto Gatto lo facciamo insieme una sera Giappone No No è Corea 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 è giusto C'ha i pallini E come giusto Avevi messo Corea dicendo Giappone Scusa Eh Hai detto Giappone Lui hai detto Giappone E indicato la Corea Questa è l'India La Thailandia Kokoro Blank Dancer Però dai Palesemente Ma Gatto Neanche noi lo eravamo Lo siamo diventati Ma Gatto È l'antitesi Ma non è il Bangladesh Tipo No secondo me è la Thailandia Bangkok No Secondo me è a noi Oro Non c'è il Bangladesh È l'ultima vita abbiamo Il Pakistan No non c'è niente di Ma perché sono C'è un fantasma Qui siamo dentro Questa cosa Mi ricorda qualcosa di Medio Oriente Ma siamo in trappola Siamo Ma non è tipo No è Medio Oriente Guarda un attimo l'autobus C'era un persona anche un po' più Vine Morris Orca bestia Orca bestia Orca bestia La Sir Il Ghana cos'era? Non lo sapremo mai Marco Abbiamo sbagliato E non ti dà Vuoi essere Pakistan? Sono secondi Deve essere Spakistans Secondi Poi non ho capito come lo regola questo Perché la gente continua a giocare Poi Ma la versione Ma tanto Ma vedrai che non è così Incredibile Gatto Dove dire la versione scemo? No è una versione Che ti dà le risposte multiple Questa sì Questa è la versione già nerfata Noi di solito facciamo anche la streak Dove non hai niente Non hai aiuto Noi di solito facciamo quella che devi Nettoccare l'azione Non era la versione Questa è meno C'è una città Ma sì ma poi alla fine ci fai l'occhio Non è questione di geografia Io l'ho studiato a tre anni geografia E basta Comunque ho imparato molto di più Guardando video su YouTube Che studiandola a quei tre anni La geografia Lo voglio dire Dissing al sistema scolastico italiano Non è che la geografia è solo sapere Dove sono le cose Comunque No Ciao gatto Il padrino caffè Vieni sul nostro discord Così puoi vedere Un attimo Un attimo E mo gatto Non c'ho tempo Chi è Peppers 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 Caffè Lounge Ma chi è grazie Peppers Non mi stai facendo leggere sulla scritta Ma chi è scritta Tobacco Vedere almeno la lingua Eh ma non si vede Non è italiano C'è tobacco Ma puoi muoverti eh Zone Ah è vero Perché in italiano non vendono il tabacco È meglio È scritto tabacco O tabacco Ma c'è un appunto C'è Eh no gatto Si vedeva meglio il live Eh sono Venna Eh certo grazie al cazzo Eh scusa Croazia Croazia No è Zagreb Bravo Infatti c'era l'appunto Grazie gentleman Grazie gentleman Grazie gentleman Diamonds Bravo che riesci a Imparare la geografia È l'Inghilterra È l'Inghilterra ragazzi L'ho detto anch'io che è l'Inghilterra Perché Guarda le moto Eh vedi Manchester Mi avete preso per il culo Mi hanno preso per il culo Ah la scritta La scritta sul camioncino Cosa è cut Barcelona Ma scusa ma a Barcellona C'hanno le moto inglesi Cosa vuol dire le moto inglesi Eh mi sembrava anche a me La polizia inglese Le avranno rubate Ma lei è arrivato dall'Inghilterra Vector Tu sei stato in Inghilterra Io non sono stato Germania 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 Perché c'è una censura gigante Non è la Germania L'Austria Non c'è Non c'è Cazzo Perché le censure giganti Gatto di solito sono in Germania Perché Boh Non si sa L'Olanda è l'Olanda ragazzi Sicuro Ma non c'è Non c'è Non è Danimarca Non c'è Non c'è Allora è l'Irlanda L'Irlanda La Latvia Allora è l'Estonia C'è Bazinga lì C'è scritto C'è Cattolu Baznica Ma è Baznica Eh sì Allora è La Latvia Eh esatto Era l'unica che c'era nell'est No c'era sotto Ma era sotto Questa è l'Olanda Dove sono finite Ma che bella casa Questa è l'Inghilterra Sono gli X-men Non lo sapete No È interatticato Una bella Un bel upgrade Cazzo L'Irlanda O Londra Londra è troppo urbana Non può essere più No non è Londra No però lì Non è Dublino C'è può essere Mi fido di Moro Abbiamo perso Moro che figura di merco Era Londra Abbiamo travellato Back to check point Ma in centro a Londra Quella roba lì dov'è Scusami Non era centro Era Ti segna Londra Guarda il cartello Moro Israele Eh sì Andati via troppo rapidi Non so niente Eh perché bisogna essere rapidi qui Qua c'è anche il tempo Il magone poi Il grande mago Questa è l'America O Messico Anche Messico potrebbe essere Sole Il sole Gli Ezzar E a nord Nord Quindi siamo a sud Messico e mezzo Fai Messico Fai Messico C'è la bussola qua Prova Messico Prova Messico Moro Ma Messico E no Deve essere la Bolivia O l'Argentina Sono due Cordoba Abbiamo appena la Bolivia Era la Bolivia Cazzo ragazzi Hai capito gatto Come si gioca Le dinamiche Devi capire dove cazzo sei Non è che mi sembra La dinamiche Mi sembra abbastanza chiara Una volta ci siamo ritrovati Dentro il palazzo Americano A Washington E avevo detto Che era l'America Era un museo di Washington No Ho capito che Le campagne fuori l'onda Sono vaste Però A occhio Cioè Il puntatore è dentro l'onda No Aspetta Il puntatore non ti segna il luogo Ti segna la città La città Sì Il signor Stefano Che c'è sempre con noi C'è sempre Stefano Per forza Questo è Bruxelles Questa è europea Secondo me è Bruxelles Non c'è Però è europea E Spagna Madrid Fai Spagna Secondo me è europea Vabbè è un laghetto Le foto tutte assieme Che c'ha la ringhiera Tutta ondulata Cazzo duro Ah vedi che è Madrid Ma prima è detto Si può ridere delle cose Anche se Fa ridere una ringhiera Ti fa ridere gatto Ci moro col cappè Questo è lo Shinkansen Central Brasil Ma molto Brasil Chissà dov'è Rio de Janeiro Pensa Hanno anche il treno Uno pensa sempre alle spiagge Brava cose Bolsonaro Il covid Che discorso No Bolsonaro C'è un palazzi alti Castiglia Burgos Chamartin Clara Camponano Castiglia Singapur 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 Mai Noi ti ho fatto sbagliare Allora è Corea Olè Aspetta Amore Corea Corea Coreano Non c'è Ah si c'è Quindi in Corea Parcheggiano di merda Come anche in Ovunque Cioè dove vai vai Li trovi quelli stronzi Per minchia Fino adesso Questa è Venezia Questa è Europa Tantissima E anche questa Sarà Amsterdam Questo è sempre il nord Esatto Amsterdam Berlino Milano Aspetta Non è Ma sono i Navigli Gotenburg Sono i Navigli Mi sa ragazzi I Navigli Di Milano No Non era Ma c'è guarda che ci ho creduto Per un attimo No ma anche perché i cartelli No i cartelli sono sbagliati Sì sì No non c'ho Ok Non è Non è niente È russo È russo È San Peter San Pietroburgo San Pietroburgo San Pietroburgo Sarà per quello Eh mi sa che sì Ostiaria È gommone Sudafrica Questo è Sudafrica Il Ghana Fa vedere se ci sono le elezioni Beh sì C'è gente che sta andando in fila Gatto In Ghana ci sono sempre le elezioni Ogni volta Mi guardiamo Non è che sempre Probabilmente aveva fatto le foto Quella volta lì Sempre E l'ha lasciata sempre Sono le elezioni 2017 Nel lunghi anno Quale? Quale? Osaka o Nagoya? No Nagoya Nagoya Si vede che lì Azzar c'è stato In Giappone Sa tutto Una signora Ma è Olanda questa Tantissimo No Non è vero C'è le case troppo Borghese È americano Eh sì Secondo me L'americana è qui C'è scritto lo stop Avenue È america Non è canada Canada Vancouver Dai Non è un po' troppo verde Vancouver c'è un po' di tutto Canada è tutto verde Sud america Tuberoservice Sud america Oh finisce il tempo Cazzo quanti ce ne sono Coyote No primi Primi Abbiamo vinto Ah c'è la musica Siamo passati In livello Che male Uno calmo Per piacere Facciamo la nostra Dai Con Gattola Facciamo la La Gattoran Adesso Noi Sì esatto È la Strik Ci buttano dentro Abbiamo con calma Il tempo per prendercela Per guardare in giro Eh Però se perdi Soprattutto con Morelli Che è tutto agitato Perché È come quando giochi A Warzone È un casino È coso E no bari Get time for a Come si chiama Non so Non so È quello della bomba No qui abbiamo tutto il tempo Finlandia Eh Guarda a destra Che c'è un cartello No c'è il sito LV LV Latvia Latvia Però c'è scritto pistoli anche Eh Pistoli vuol dire qualcosa In latviano Sicuramente Senza suoni Va bene Quindi la prima L'abbiamo fatta Che bello Il sole a nord Il sole a nord Pick up C'è un pick up Tranquillamente dietro casa mia C'è un pick up Ragazzi È però il sole a nord Quindi siamo io Sì Questo è Il Mi zoom Lì Innovative Waterborne È la Nuova Zelanda Potrebbe essere anche Nuova Zelanda No no c'è ragione Aspettate Quella scritta arancione lì Secondo me Potrebbe essere in lingua Hatschim Attenzione Non è la Nuova Zelanda Adesso io vado qua Australia Nuova Zelanda Australia Una delle due Potrebbe avere ragione Simone È in inglese alla fine Sì potrebbe essere Sempre una delle due Eh anche lì si parla Quindi roviniamo la stricca Così subito La metto È la Nuova Zelanda Mamma mia Sono dei fenomeni Ecco Questo è Sudafrica Questi sono i primi Questo è dito Sudafrica per forza Ti giuro che Se vai un po' fuori Così eh Ti porto Vieni a me Ma ci sono venuto A Treviso Più o meno in generale Ho capito Devi andare un po' fuori Eh ho capito Non è il Sudafrica Fuori Treviso Aspetta Torriglio 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 Che è il Sudafrica Anche perché penso Che questo pick up E questo signore Ma scusami Ma che portale c'è qui Sono sicuro che non Va velocissimo Quando è passata La macchina di Google Questi si sono levati È Batman No non è Non è Guida al contrario Comunque Ha rubato Un motorino Tra l'altro Ho visto È per quello Che si sono levati Di culo veloci Hai il motorino Sulla macchina Stanno scappando Però non sono Sudafricani No non sembrano Sudafricani Perché scusa Dici che non sono Sudafricani Perché non era nero Ma cosa c'entra In Sudafrica ci sono tutti Che discorso Però di solito Becchiamo sempre Più gente di colore In Sudafrica C'è una minima possibilità È il contrario È finito Guarda che In Sudafrica Sono più bianchi Effettivamente Di nero No non è vero Ma tutte le volte Che l'abbiamo sgammato Becchiamo sempre Più gente di colore Guidano storto Anche qui guidano storto Guarda il sole Un attimo Non c'è il sole Qui non puoi capire Se quei due lì Guidano storto Perché la strada Non mi sembra No no C'era il volante Al contrario Delle catapecchie Vediamo Magari c'hanno la bandiera Sono patriottici No è la destra C'è un cane Guarda che c'è un cane È un dingo Li devo pettare Quando ci sono i cani Vai giù a sinistra Vedi un po' qua Come felice Credo sia una zona di ant Lei effettivamente Già sono più scuri Non sono C'è un altro cane Però non mi sembrano Scuri Dove è l'altro cane È scuretta A destra Questo è un cane Non è un cane A me sembra un cane Sì è un cane Magari è finto Ah è un altro cane È vero Tra 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 L'ho pettato Bene bene Non lo so Io vedrei sudafrica Aspetta c'è un cartello Girati girati No era Era una tenda Non c'hanno scritte Vabbè che è scritta Tanto Secondo me sai che è più Sudestasiatico E se fosse Filippine Ostia No Filippine Non credo sia così tanto Tropicale No la ragazzetta Mi sembrava Filippine L'uomo che portava Lo scooter lì È finita la strada Eppure di qua Ma io sono incastrato In un limbo E sei in Madagascar Aspetta Ad Madagascar Cosa è successo È diventato un posto ricco Ma non è vero Ma non è vero Ma com'è possibile Ragazzi Scusa torna dove sei venuto Vedi Vedi che sono le scritte indiane Che è successo Cosa sarà Eh Tailandia Scusami Aspetta un attimo Ma che bello Era l'inflazione Cioè qui non c'era niente Prima era questa La tannica Era tutta campagna In realtà sai cosa La globalizzazione È cambiato Ma il cane è diventato Una iena Ha fatto carriera Ma che bello Che è questo Ha fatto carriera Adesso c'è il gazzivo Tutto su Sì E da mezzo alla strada Posso andare di qua In questa strada In realtà tu non ti sei spostato Nello spazio Ma nel tempo È la stessa strada di prima Eh sì Il tempo è stagnante A Lordran Comunque sì C'è una rischetta indiana Potrebbe essere Adesso ci sono i due tipi Che potrebbero essere In Indonesia Sì Aspetta guarda il sole Adesso puoi vederlo Ah è vero Adesso c'è del sole Beh è stia Cioè è proprio È proprio giusto E nella righetta Vabbè che tanto In sud-est È proprio sull'equatore Seguire un po' da poco Aspetta Questo è quello di prima No questa è una signorina Che sta tagliando Sta tagliando i rametti Sta tagliando Ma che Che lavoro E poi come li porta Con quello scooter piccolino No è un hobby No no aspetta Secondo te Li sta tagliando Perché poi fa freddo Quindi vuol dire Che è un paese Magari è la manutenzione Della strada E lei Però attenzione Tu qui hai mascherato Sì Prima c'era Batman Sarà un cattivo Cosa dici Il cattivo di Batman Sì Un villain È finita la strada Ma porca troia Niente Vabbò io dico indonesia Vietnam No indonesia Anch'io sono più Vietnam Da quelle parti là Vai Vietnam Ci sta Ci sta per carità No era la Thailandia Dovevamo andare sul L'ovvio Scusate Se è sud-est asiatico Prima di tutto C'è la Thailandia Perché è grossa No perché è la prima Che ti viene in mente Beh anche grossina Perché tagliava i cubetti Federico 10 sub Per le 10 Subscription Ma sei un gatto Lo dovresti fare di lavoro Grazie Grazie C'è incredibile Ne approfitto per dire Che siamo dentro Eri successo Eri successo Aspetta le scritte Possiamo giocarci È un ospedale Siamo sopra una stampante È un ospedale È un laboratorio È un laboratorio Il laboratorio De l'ospedale Aspetta Guarda For innovation Iorshka For world Non ho idea Bruxelles In molte sono aggiornate Colera 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 Il posto del libro Ma quel simbolo L'abbiamo già visto È la Finlandia È la Norvegia Ragazzi No l'abbiamo già visto Quel simbolo Non era la Norvegia E allora Era uno di sti tre O Svezia Sicuramente uno di Finlandia Mi fido di Marco È la Svezia L'avevano scritto in chat Io sono ascoltato L'avevano scritto in chat L'avevano scritto in chat L'avevano scritto tutti in chat Svezia Quel simbolo lì L'avevano visto in Svezia Però dai Che dove hanno inventato il Mac Tra l'altro In Svezia Sì E per favore Avevano usato lì il combo Sì Era svedese Adesso questa è Gattoran Vai Gatto Dove siamo Però non mi sposta Devi dirla La prima che ti capita Vai Prima che ti viene in mente Visto come prima Potrebbe essere il Sudafrica Però ci sono le palme L'hai detta Ormai l'hai detta Era l'Italia Era l'Italia Ma cosa Scusami dove Si può sapere Era Te lo dice precisamente A Policoro A Policoro E in Basilicata Policoro Non ci sono mai stato Neanch'io Cioè Avevo parenti Confermi che Sembrano Sudafrica A Policoro In Basilicata Che c'entra Vabbè più o meno Lì vicino Nel senso Sarà uguale E anche più in Giurek Era veramente L'Africa Però ragazzi Sembrava Sembrava Ma giù è pieno Di zone Molto sfigata Giù è pieno Di zone aride Ho detto che Quando abbiamo visto Sudafrica Che era dietro casa mia Perché ci sono Questi posti qui In Italia Dietro dietro Sì Ma non era Sudafrica Poi quello là Era La Thailandia Questa è la Russia Tra l'altro Questa è la Russia Questa è la Russia Questa secondo me È la Repubblica Ceca Per me è la Russia Vedere di Graffiti Anzi potrebbe essere L'Ucraina Second hand Girati che c'era la scritta Migliore dietro lo stato Second hand Uclidovi Servante Io dico addirittura C'era anche un sito Ma non si vedeva Secondo me non è russo Libushka 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 È russo Secondo me non è russo Perché non è scritto in cirillico Eh no infatti Eh ma per quello ho detto Ucraina Perché in Ucraina ci sono entrambi Tankove Pivo CZ CZ Repubblica Ceca Ragazzi Visto Chi? Cosa ho visto? L'ho detto io Ma stai zissimo Tu hai dato manforte Cosa vuoi? Non era una rissa gatto Sto scemo Ma guarda te Gatto dove siamo? Vabbè vedere il murales Ma siamo in Sudafrica Ma è il murales E qui è Questo è Robi Vecchi È Aldo che è andato a prendere le castagne Allora le cose sono due O è un Robi Vecchi O uno che ciulà le vecchie Allora qua ci sono i trulli I trulli si si Sembrava da lontano Ho sbagliato Cosa c'è scritto qua? Sul muro AC Meno Chiamavate Qua c'è un cimitero di mattoni Eh ma Il cazzo di zone rurali stiamo beccando Scusa Salla pavia Vabbè quella qui è una zona Guarda che case Che ci sono poi Le case incredibili sono Che cazzo sono importanti Però siamo Allora La stanno costruendo Ecco perché i mattoni Secondo me siamo verso Stanno costruendo la casa La solita cosa Se fosse tipo Iran Allora io ho visto Delle persone di colore Prima È lì Io ti dico Iran C'è un po' di nebbia A me si vede lì Dove c'è la luce Mi sa di zona C'è uno col carretto qua Medio Oriente Mi apposto e chiedo informazioni È andato via Ci sono sempre queste palme qua Che di solito O sono In Italia O in Medio Oriente O Marocco addirittura O Tunisia Marocco Potrebbe Tunisia Io ti dico Medio Oriente Anche il cielo Prima le mura della casa Sì A me sembra più Africa È tipo The Sims Non c'è il tetto Cioè non lo vedi Scusa guarda a destra Quanti forati Ma cosa stanno facendo Stanno facendo Tutto il quartiere Però è in inglese Block Potrebbe essere Sud Africa I forati vendono Ma in inglese In inglese Potrebbe essere L'Africans Eh sì Eh potrebbe essere Sud Africa Vado Vado Lo sono andato Era la Nigeria Era al pelo Era vicino a Benigni Era la mid Africa Mid Africa Nord Nigeria Scusa No è a metà No è a metà A metà Sì Ma bisogna vedere Cosa intendi Perché c'è Tutta la zona centrale Effettivamente sì Dipende come la guardi Se la giri È sotto Bravo Bravo Se giri la cartina Il sud diventa No Allora Metto a caso Metto la Cina Non c'è neanche la Cina Dirla Non si importa Andavamo bene con lui Cioè nel mondo Ci sono solo strade Ma allora Dimenticate da dire Questa è la Nuova Zelanda Ma no È tutto secco Anzi l'Islanda Apprezzo che ci sia Un bidone Questo è l'Islanda Guarda che c'è il cartello No è proprio l'Islanda La Serbia Però ho scritto in due È scritto in due modi È Serbia Ucraina Serbia La Bulgaria Bulgaria anche Sì Serbia Perché la Bulgaria Ha solo il cirillico Era la Bulgaria Era la Bulgaria No la Bulgaria Ce l'ha tutte e due Ce l'ha tutte e due Sì Mi sembra di sì Confermateci in chat Magari mi ricordo male Porca miseria Abbiamo sbagliato Vabbè però le avevamo identificate Tra queste Questa sera Proprio non va Beh le lamento È da un po' che non lo facciamo Ma gatto guarda che tu sei qui Per fare cose Ma che strano Un'altra strada Questa è Russia Questa è Russia Tanto Sì Sto gatto Non c'è un cazzo Adesso Ma sì ma ragazzi Ma come dovrei fare Ma siamo in gitta con loro Che non mi faccio capire Scusami Scusi Siamo nello zainetto Ma questo qui Ma questo qui È il signor Google Che ha detto Ma oggi vado a fare una gitta E per vivere faccio le foto Tra l'altro con lo zainone Ma che rottura di coglioni Ma che bello Però che ragazzi Ma porca miseria Secondo me Madagascar Non c'è niente Non c'è proprio Madagascar Marco Madagascar Tu che ne sai Madagascar non ci sono Le montagne più foreste Madagascar Credo Che è vero Più foreste Madagascar è vero Signor mi facci Già ma Sembrava la Jamaica Invece era la X di Google Sulla maglia Dove siamo ragazzi È una simulazione Siamo in Super Mario 64 Sì Ah ecco Tutto è tornato normale Siamo usciti dalla simulazione Il sole Credo sia Qua E a nord Puro nord Quindi è Australia Australia Dai O Sudafrica Perché anche le Sudafrica Secondo me è Sudafrica Ma mettiamole Australia Era Il Madagascar Vedi che era il Madagascar Ma porco Ma io sono le montagne così alte Il Madagascar Sai che dobbiamo dar retta È tutta una striscia di monti Nel mezzo No Eh io che cazzo ne so Eh adesso lo sai Che isola è qui Ma il Madagascar Non mi ricordavo Avesse quella bandiera Ma le Mauritius Sono qua Ma l'hanno appiccicata a caso La bandiera Ma sono lontanissime le Mauritius Che ha Quello dei Regoli C'è un'isola qua Sopra c'è un'isola Lui Sopra ancora un po' No Sì Ma che isola è Ma che bella Guarda Ci sono dei castelli Ma scusa Ah ma le Maldive sono qui Ma te guarda quante cose si scoprono Sono isolette le Maldive Ma te guarda Anche qui Il Cagos Arcipelago del Cagos Noi abitate No È visione È visione Infatti c'è scritto Danger Island È un pisello Eagle Island Sea Cow Island Io voglio Voglio andarci Andiamo in queste isole Facciamo dei vlog E diventarsi in fretta Perché spariranno Ma queste qui credo Che ci si vada In barca da qua Ma come ne immagino Di morire prima Credo che siano Mille chilometri Da lì Eh ma La vieni così Anche New York Che troppo si abbandona Vabbè andiamo a piedi Le Seicelle Come fai? Cocos Gesù Questo non l'ho mai sentito Gesù adesso Chi è che Dimene un altro famoso Perché correva sulla Flash Naruto Naruto che non correva sulla Vabbè sì C'era il Chakra C'era già coi tini C'è un sito coi cannoni Secondo me questo qui È l'isola del primo Uncharted No è Madagascar Isla Island Era Madagascar No era Mi pare che c'era Era le folie Scusami gatto Mi sono preso dalla geografia No aspetta Quando c'era il Dorado Il primo Era un'altra isola Non mi ricordo Era qua in su sotto In Sud America Era magnifica e splendente Comunque Continuiamo Ce l'avevamo presi Dalla meraviglia della terra Gatto dove siamo? Ma questa signora è un putto Repubblica cieca No è finita in un fosso Poveraccia Poloni Ma sei andato senza Chiederci niente Che liscio C'ho provato C'ho provato Repubblica cieca È uguale Italia Ma questa è l'Italia Non è l'Italia Assolutamente Vedrai Vedrai Infatti era il Sud Corea Avrei detto tutto Tranne il Sud Corea Non ci sono mai stati Non è un po' Sì Questa è la Spagna Perché almeno nella Battle Royale Ti butto Questa è la Spagna Albania Tirana Albania Che culo eh Mamma mia Che culo Sono lì a posto i murales Perché la gente ti dice dove sei Sì Israele Israele Sì Direi di sì Coli gatto Era ebreo Ebraico magari Ebraico E che era ebreo Hai fatto Hai scoperto la religione Tu Era un ratino Quello era proprio ebreo C'era la kippa L'ho visto Allora Qua è una città nordica Questa è Germania o Olanda Non è nordica Hai ragione C'è una censura No non è nordica la Germania e l'Olanda E dove sono rispetto a noi Scusa Ma che c'entra Nordico è dei nordini Non è nordica la Germania La Finlandia è nordica Allora chiedo scusa La nordica Intendo sopra di noi Sopra di noi La Svizzera è nordica Air service Eh c'è una censura lì Io andrei a Germania Eh Germania La Svezia è nordica Austria o Germania Io andrei a Germania Non la Svizzera Intenevo la Spagna Scusatemi Ho detto solo Svizzera Ma intenevo Spagna La Spagna non è nordica Eh infatti infatti Ha detto Svizzera E io ho pensato la Spagna Ho sbagliato Non sbagli mai C'è una scritta Cartello rosso Eurosport Colonia For sale McDonald Aspetta aspetta C'era un sito Mi sa moro Rizuma lì No non c'era Non c'era Vai sul rosso Vai sul rosso Officina meccanica Non c'è punto Guarda su quello rosso Il rosso Ah questo Ma porca miseria Map 3 Molestie Middle Maffre Middle Sea C'è una bandiera Forse più avanti E Yalova Mister Lovalova Lì ce lo cambiamo sotto di noi Malta E Malta potrebbe essere Anche l'altra volta Era simile a questa E' vero La bandiera di Malta No Non la conosco La bandiera di Malta Indipendenza Com'è Malta per davvero Partito nazionalista Ma Malta è rossa e bianca Mettete Malta Mettete Malta Fidatevi C'è la bandiera che è così Mi ricordo il colore A me è lì Malta Vedi Eh sì Bravissimi Grazie Gentilissimo Ercaio Pesticid La palissiano Vuol dire proprio pesticida O è un caso Eh dipende dove siamo Entrambi Entrambi ci sono Eh non so come parlare BG Bulgaria 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 Dove che era? Circo Eh beh Le vecchie sale giochi Lì sono rimaste Beati loro Scusami Siamo in un cimitero Mi sa di Sud America Non so perché A me sa di Giappone L'ho visto così Mi sa di Giappone Ma è tipo Brasile Famiglia Joaquin Fidati Fidati Eh sì C'è una montagna alta Ah ma Marco Eravamo proprio in Brasile Eh Olanda o Gran Bretagna Questo è nordico Questo è nordico Per davvero Nordico Nordico Allora dico anche io Olandese perché Nordico sarebbero Rosse Anche Austria Potrebbe essere No no Oddio Anche Danimarca Potrebbe essere Salvagente Quella scritta lì Mi ha dato di Danimarca Tantissimo Commerce nerd Io dico Danimarca Danner Dannebrogg Io dico Danimarca Non è tedesco Danne potrebbe essere Danese no 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 Danimarca Secondo me Mi fido di Marco È che la beccate tutte Stasera Incredibile Era la Grollandia E fa sempre ridere Questa è Messico No Marco La paz Il cartello Dai Stasciò Urbani E allora Sempre in un paese Spagnoleggioante Bello Sud America può essere Argentina È una bandiera dell'Argentina Quella in mezzo alle rocce Dove? Ah ostia Sì è vero I colori ci sono Aspetta Potrebbe essere anche l'Uruguay Però eh No ma aspetta Magari è semplicemente Un posto Allora Allora Io ti dico che Europa al 100% Perché c'è un Mercedes Una Volkswagen Un'altra Mercedes Un Fiorino Una Ford Potrebbe essere la Spagna No sono i Balcani Però ha scritto Spagnolo lì Andorra Targa gialla Targa gialla Solo quello Però gli altri no Ma ci sono Una catena montosa Abbastanza importante Ma è tutto diroccato Quel paese o sbaglio? È più o meno Diroccato qui Adesso vediamo Più avanti No e dopo Sotto è normale Un paesino di campagna Normale È Spagna Sembra l'Italia Sembra Abbiamo bisogno di cartelli Non lo so Spagna Leggi dove porta C fake Questo è un fake Romania More Romania È Romania È Romania Fidati È però non vorrei che sia No 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 È l'ha scritta È romena Albania L'Albania È uguale all'Italia Marco Dovevi farti Prendere il fake taxi Albania Veramente uguale all'Italia Era il fake bus Finiamo malissimo Finiamo Era il fake bus No ragazzi Mi sono fatto fregare Dalle scritte Dal L'Albania comunque Ha dei posti Veramente bellissimi Porca miseria Giulio regalando Colombia Ma perché c'è signorini? No è Enzo Miccio Enzo Miccio È Enzo Miccio O Mr. Bin Se lo guardi Da più vicino È Mr. Miccio La pazza C'è scritto la pazza La pazza Ma la pazza Ce ne sono sette Però in spagnolo No è Sud America Eh ce ne sono di più In Sud America No c'era la capitale La pazza Era quella della Bolivia Però c'era anche Da un'altra parte No io avevo detto Infatti era in Messico Vedi c'è anche qua La pazza Steve Bastardi Perché in Bolivia Tra l'altro parlano Brasile 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 Portuganzo Questa è Randi Gatto Gatto Grazie Grazie di due mesi Gatto Indovinala Ma perché sempre Ste cazzo di strade Dove non c'è niente In realtà c'è un indizio Hai un indizio La punetta Questa è proprio caratteristica Gatto Questo dell'autobus No in realtà È un indizio Che non è vero Gatto Visto bene No è vero C'è c'è Sono betulle Quelle più là No Marco Non siamo in Finlandia No con le cose gialle No con le cose gialle Non ci sono No con le cose gialle Così Ogni tanto Anche da noi No secondo me Non così No non quello Non questo Al massimo Al massimo In quello dei lavori In coro No no Quello di prima Torni indietro un attimo Ragazzi Sapete Quello dell'attraversamento Pedonale Ne ho visto uno identico Ma sapete Ragazzi dove prima Abbiamo detto Che erano i navigli C'era lo stesso Segnale E dove era poi I navigli Ma avanti Non mi ricordo Eh che avevamo detto I navigli Ci hanno girato a destra C'era sto cartello giallo Uguale Girati qui Indietro Che c'è il cartello Ah no è sempre un limite Sai dove era Era la Russia San Pietroburgo Era San Pietroburgo Eh ma non mi sa di Russia Allora Fa molto Russia Oddio Eh potrebbe essere Perché i segnali Erano uguali Per me è l'Ucraina Comunque Però attenzione Sì è Russia Per me è l'Ucraina Potrebbe essere anche Ucraina Perché c'ha tutti e due Però avete visto Che ha il cartello giallo E Russia Adesso abbiamo un altro indizio Per la Russia Il bannerino case L'ho vista anche da noi Quella giallo Fusforescente Giallo fluo così Io non l'ho mai vista Che contorna i cartelli Su quelli più nuovi Eh guida la coltella Nuova Zelanda O Australia Non è Australia questa Sì più Australia C'è il canyon La terra rossa Io dico Nuova Zelanda Invece Marco Era l'esoto Ma ogni volta Oh ma tutte le volte C'è l'esoto Da qualche parte Ma c'è l'esoto È il San Marino Del Sudafrica Praticamente Ogni volta Veniamo fregati C'è anche Esuatini Sì Che anche quelli È il Vaticano Invece L'Ucraina Non ha tutti e due Eh? L'Ucraina Non ha tutte e due Mi dicono Ma io mi ricordo di sì L'Ucraina Ha solo il cirillico Ha solo il cirillico Ok C'è una macchina sfondata No C'è scritto Sì attenzione Attenzioni Eh cos'è Parlare in corsivo Attenzioni In corsivio Perché scusa Non si può parlare C'è il passo Carrabiglia Vabbè io metterei Questo è Siamo in Toscana Siamo in Italia Ah è una Toscana Marco Ma bravissimo Era vicino a Firenze Mamma mia Ma tu lo so Marino che non è incluso Mi fa ridere Cioè Marco È un superpotere Inutile Ma completamente Vai a lavorare Per favore Beh se lo Se lo droppano Da qualche parte Questo è il Bangladesh No Plaza è il Bangladesh No no C'è il Perù Il Brasile E Cile Dovrebbe essere quello lì Quindi Eh Io metterei in Messico C'era il Cile Il primo Come metterei in Messico Vediamo Spiazzarmi I bus viaggiano Allora secondo me Questo È proprio lo scopo Di questo veicolo Questo è il Perù però Ahia cartello giallo Salvador Minchia Quando ho viaggiato È un po' strana Come Russia Santa Rosa Santa Rosa Tutti i DVD 4 per 10 Consultorio dental No io metto Secondo me È Perù Metto il Perù Marco Mi fido di te Oggi le indovini tutte Era la Bolivia Ma non c'era Non c'era Nel Perché Nelle bandierine Perché è contornata Dal Brasile Il Perù e il Cile Il Paraguay Ma anche un sacco Di altre robe Anche l'Argentina Vabbè Non c'entro Questo è di gatto Vai gatto Ma che siga Ma me lo smizzi Di darmi in strada È nordica Gatto è nordica Però eh Questa potrebbe essere Anche Italia Potrebbe essere La pianura padana Questo potrebbe essere Effettivamente Dietro casa tua Io sono indeciso Tra un paese nordico E la Repubblica cieca Eh vabbè Mauro non mi danno indizi Queste case di roccate Ci sono dei fienili qua Ma come vai avanti Magari c'è qualcosa Della civiltà Da qualche parte Sicuramente non è quella La civiltà Perché Adesso ciò Spagliato strano Andiamo a finire in un buco Lì c'è un cartello Ass Pircupiai Io ti dico Repubblica cieca Gatto Anch'io dico Repubblica cieca A te Fidarti o no Eh Guarda che c'è un sacco di verde No Siamo un paese nordico No Eh allora Anche a me a primo impatto Sembrano nordico Però effettivamente Ste casette qua Le troviamo sempre La repubblica cieca C'è un cartello verde Vediamo Matvik Irbuk Non è la repubblica cieca Aspetta E te lo dico subito Dove siamo No Secondo me non è la repubblica cieca C'è non è neanche la nordico È un altro ancora Procedi qua Procedi qua Che arriveremo da qualche parte Prima o poi Questi Aspetta Non è né nordica Nè repubblica cieca Secondo me È tipo Est Europa Tipo Latvia Romania forse No Non è Romania Secondo me è tipo Latvia Ma tanto è il solito Cartello Da un'altra parte È il fiume Merchis Merchis Il fiume Merchis Guardalo eh È in repubblica cieca No 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 Secondo me è Est Moro È questo qui Guardalo eh No Quello credo sia molto grande Per me è o Latvia È piccolino questo eh Effettivamente Però non segnalano Vuol dire che Vitavar No 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 Dico Latvia io Non importa Dice Latvia Marco Non lo so La vegetazione La vegetazione Potrebbe Sembrare di essere Vicino alla Finlandia Sì è per quello Prima mi sembrava nordico C'è un Nikkei adesso Dove c'è il cartello lì? Era un cartello fasullo Aspetta Vedi che c'è scritto sul camion? La smeg È sempre questa Che cazzo ridere? Eh mi ha fatto ridere È una cosa sessuale Mi ha fatto ridere La smeg è una cosa sessuale È un frigo No No Sì E poi non è sessuale Neanche la malattia Al pede No Infatti non volevo dire Sessuale Che comunque Non c'è il cartello Con scritto welcome Quindi vuol dire Che non siamo in Austria Era il sito sotto lì Io ti dico l'Austria Eh ma non si leggeva C'ho provato ma Appunto LT forse Mamma mia ragazzi Per favore Per favore LT E Lituania Guarda Tu hai detto Latvia No ho detto Latvia Complimenti Dei fenomeni Però questo Gatto Questo me lo dice Un'altra cazzo di strada Gatto Questo me lo dice È nordico E dove eravamo prima era Adesso Moro dice Norvegia Perché c'è No Questa è la Svezia In Lange Ogni volta Vabbè Gatto buona live Grazie per essere stato con noi È stato sempre un piacere Divertitevi Piacere Piacere a te Piacere a te Comunque ragazzi Non è possibile Sempre Mororan Sempre questa cazzata Vai Mororan No che Mororan Come no Non puoi esimerti E tornerei con la sua città adesso Questa è l'Italia Eh c'era già capitato il Montenegro Tutto verde Proviamo su quello delle città Dai proviamo quello delle città Corvora Fatemi bere Prima di bere Kent Farm Che tromba Maria Eh Da chiavando fuoco Ho finito l'acqua Una run in Italia Mi fa noia bestia No più che altro Perché in Italia Non c'è quella Devi trovare il punto preciso Veramente noia Stefano Ma è in chat per forza Sì in chat Marco E chi è Stefano Palesati Palesati signor Stefano Non l'ha mai detto Quindi io no Per me L'altra volta sì Era Stefano in chat Te l'aveva detto? Palesati di no No Sono ritirati tutti Perché siamo troppo forti E Stefano 96 Dicono Eccolo Ciao Stefano Eccolo lì Ma non dite Avanguardia sessuale Ma non l'ho chiesto mica D'Alexa Voi Caspita Casper Qui siamo in Egitto Non ho visto niente Bravo Ho riconosciuto L'uniforme Non lo sanno che a Londra piove sempre Qui c'è un tappeto Europa? Sipai Hotel Hotel è scritto senza Home cooked food È asiatico Sud-est asiatico Mi sa Kaiseri Mantisi È sud-est asiatico È sud-est asiatico È europeo È europeo È esterno No 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 Adesso le elezioni Guarda E siamo in Ghana Mehmet Polat È Turchia forse Turchia Vai Turchia Vai Turchia Sì potrebbe essere veramente Turchia Eh sì Istanbul Mamma mia Meno male che abbiamo visto la foto dei candidati O del turco Palesemente Qui siamo in Giappone No 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 Sei solo negozio Casiatico Amoro Solo negozio Il ristorante a destra È il ristorante a sinistra È cinese tutto Ma ho capito Ma che sfiga Scusa Ma guidano anche dritti Non può essere in Giappone Ho capito Ma è tutto scritto Eh ma perché sarà tipo Chinatown in quel posto Eh sì Sembra che qua a Milano C'è la terra Ah ma porca miseria Che sfiga Scusami A me sembra L'America tantissimo No Non è europea Non è europea Sì sì Però i tram così Io dico Australia Io avrei detto Australia No 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 Il sole a sud Il sole a sud Guarda però È proprio il numero di telefono da America Questo Eh dai 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 Chicago Chicago che è la città di L'altra qual è L'altra qual è L'altro è Canada Toronto Eh vai 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 Toronto Effettivamente molto Toronto Ma Cairo non lo sanno Ok non da piove sempre Eh Credo sia Olanda Tra l'altro vorrei fare i complimenti che è il record di persone partecipanti al giveaway Questo qua Bravi Quanti siamo Siamo credo mille e quattro Edificio Maria Cristina Secondo me non è l'Italia È vicino all'Italia Ma che bel maggiolino questo Porca miseria Se fosse la Slovenia No secondo me è sud America Ma quella sono case Oh madonna No sono case Casa Casa A destra Moro Cosa c'è scritto Canada Com'è Canada C'è anche la bandiera L'ambasciato 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 Moro guarda a destra C'è una O Rio de Janeiro A destra forse c'era una bandiera Con delle scritte al muro lì Più indietro C'è una manata di sangue qui No non era una bandiera Era una manata Mette una manata di sangue Josefina Secondo me è la pass Josefina è Libia Metti la pazza Non è Rio de Janeiro Infatti Anche perché c'era solo quella Quella è la montagna Quella è la dietro Correttino a chi? Correttino? Correttino Tu hai detto Correttino Ho detto Crettino a chi? No esci da qua Perché Un parcheggio Caspita ragazzi Siamo in Nord America Viena Viena Danimarca Non ho messo niente No No siamo droppati No Ma perché? Che musica è? Ah si droppet Siamo finiti Quarto place Che pollice Dai dai Voglio giocare Ma pazzo Quello è spagnolo Porca bestia Di primo Occhio Non riesco mai a capirlo Come si dice E spagnolo e portoghese Non le trovo le differenze Eh no Anche io Se c'è scritto Facilissimo in realtà Se c'è scritto Sao Se finisce con A O robe così Capisco che è portoghese Anche le scritti Gli accentini Quelli di più Non li capisco in italiano Figurati In spagnolo Marco Ci sono alcune parole Che sono fraintendibili Infatti mi perdo anche io Però altri si capiscono palesemente Ma si Guarda quanto è indietro E' trissimo Nella vita proprio Questo è il Giappone Dai E' la Cina Oh quella No la Cina non c'è Ah c'è Hong Kong Era tanto Hong Kong in effetti Non l'abbiamo pensato Non l'avevo visto Non l'avevo visto subito Che c'era Hong Kong Africa Sì Sì Sudafrica No Non c'è Quindi è l'ora e l'altra L'unica dell'Africa Ce n'è una Kenya Eh sì Nairobi era C'è in inglese In Kenya Quasi tutta l'Africa O inglese o francese Sembra europeo O russo Non c'entra niente Questo sembra americolo Dici? No anche a me Sì no E' a Olanda Olanda eh Non c'è i cartelli da Olanda? C'è l'Olanda C'è Rotterdam Beh potrebbe essere Rotterdam Vai 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 Questo è Milano Ai 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 Valentino da te Vale mi sei caduto sull'uccello Non escono mai Questo è il Pirellone No è Singapore Singapore No c'è qua la Lumpur in Malesia Non penso Eh no guarda che la No non è Malesia Ma ce l'hanno anche loro No assolutamente I palazzoni alti eh Guarda Lumpur C'hanno un sacco di palazzoni Sì In Malesia Potrebbe Mi confondo con qualcos'altro Forse io allora Qui c'è Scozia Bank Arena È scritto No cos'è Ma credo sia qualcosa di sportivo No no ma è America Moro America è America È America America Fidati Jarvis Street Don Valley Parkway Moro è America palesemente Toronto 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 Ok E dove giocano i Raptors Sì ma mi si è acceso il cervello Un attimo Bus Ho visto subito che era familiare Traffic Control Heights Anche questo è Inghilisterno Avrei detto Belgio Però Tantissimo Guarda che bella la casa A forma di libro Londra Sì A forma di libro Eh non vedi che c'è la copertina In mezzo Lì nell'angolo Fa tipo copertina Secondo me te lo sei immaginato tu No no Oddio America Eh Boh Sì O America o Cina C'è neanche una scritta Della squadra Di solito le metto Non posso uscire da qui Rasenfur Allora È Germania Né America né Cina Berlino Quindi se non è Berlino Svizzera C'è Sto peroni Secondo me questa non lo Io non la capisco Quindi è la Spagna Non è la Spagna No è Sudafrica Sudafrica Comunque Africa Eh Sudafrica Sono tremo Ioannesburg Cape Town È sul mare Esuatini Secondo me è l'esuatini Comunque Mi fido di moro Vai l'esuatini Esuatini Con un culo Però finisci ti i primi Primo Siamo folli È l'ultima scuola Ah se voli saliti Alla invece Ma questo è da 1 a 3 Siamo Come funzionano le stricte No perché sei alla divisione successiva È terza È nella terza categoria Della successiva categoria Sì Rocket League Quindi dove era Boh Non era l'esuatini Comunque Dove è Stefano Dove è Stefano 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 Non sta giocando Non sta giocando Anche l'avamo letti Primi Stefano Eccoti Sono sempre una certezza Meno male Un decisino Troppo così poca gente Per essere Ma che scelgo E' anche passato Il momento Gioghesser Per molti Quindi E' Giuglian Sono Frans Questo è In Thailandia Sono d'accordo Sono d'accordo Non c'è Nguyen come cognome Ma è quello C'è sempre Nguyen Ho voglia di ramen Non so Non c'è niente Giappone Singapore No Seul Non è Seul Grazie Grazie Happy birthday To you Inglesa Partidos Red Balloon Tre Agnos Marco Siamo Argentina Cordoba Moro Vai piano un attimo Perché tutti quei cavi fuori Mi sono andato di Giappone Sì ma Tre Agnos E la Geomijoule E la Corea Che è Giappone però La Geomijoule Sembra veramente Singapore No guidano dritti Qual era l'altra In Sud America Moro No non guidano dritti E il Cile Ah è Brasile Ho a Onnibus Tre Agnos può essere Portoghese Marco Eh sì Escola de Batteria Brasile Brasile Porca miseria Io pensavo Che fosse Spagnol Eh ma ci sta Si dice uguale Chi è qua? Borgo Construction By LMDGP C'è una bandiera Lì sopra Più o meno Ma non so cosa sia Sudest Asiatico No 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 Forse Africa Africa Sud Africa Che ci tapiamo Nigeria Secondo me Nigeria Guarda il sole E il sole È una nota Si è l'ora in Nigeria Vai L'altra è la Sud Africa Era immobiliere Service Una volta Arretta Autorisé Franciese 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 Fortissimi ragazzi Addio Europa anche questa Qui È arabo qua sopra Sembra arabo Girati Girati Un attimo Destra No Sembrava di riconoscere No ma non è Non è Dai Non si capisce C'è scritto Luigi XVI Eh là Sembra di sì E non è arabo Ma quella cosa Non è famosa ragazzi Sì penso sia tutto famoso Sono le vele di scampia Ragazzi No potrebbe Ma non mi faccio muovere poi No potrebbe essere Valencia di nuovo Potrebbe essere Quelle di Sydney Anche Sydney Melbour Quelle no Però perché c'è Valencia Che non aveva queste cose Valencia Prova Prova Sono quelle di prima Quelle che avevi Indominato prima Sì è vero Erano quelle di prima Sì è vero Non ci ho pensato Ubibanca Italia Questo è Bologna No non lo so Non ho visto bene Eh si è postia Il Milano Il Milano No Non era Milano Era Roma Non era Milano Ah scusa ma quello è il pavè di Milano Invece il Dezzaro era il pavè di Roma I Romani non costruivano così Ah perché anche Milano Ma costruisca i Romani Però Capito Tutta l'Italia è quella E non è che cambia così tanto E che scammata Che fa Non ci voglio Non è doveva Continuare a giocare per sempre Non lo continua Tanto dura due minuti Ne facciamo un'altra Dai vai Ma facciamone un'altra ragazzi Ma kit us up Stefano dove sei Stefano A me piace sempre Magari non facciamo tutte le settimane A me diverte Gioghesser diventa un bottom Eh si Non tutte le settimane Come prima Diverte anche a voi in chat Che vi allenate la mente Eh A me mi stringe il cappello Per questo non ragionavo bene Vedrete adesso come gioco Ho liberato come No c'ho tutta la riga Ah tenei Valencia Amoro hai fatto la pelata grossa Sì Ho voglia di una pizza con ramen Lo zoomo la fessa Vea com precisao Brasilero Questo è portoghello Secondo me Sì Vai 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 Lisbona si sta Vedi Marco l'ho capito Che c'era il brasilero Perché c'era Wow Cosa in sao Come si chiama E l'idele di quel posto Raffassoneria Torres Potrebbe essere ancora È Sud America questo Qua è se è Brasile No 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 Ah si Messico allora Messico si vai Ho voluto a mettere di sfregio Per perdere quella vita Grazie La signorina Fletcher Grazie mille Grazie Jessica Burbony Fletcher Burbony Camberbatch Come si chiama Chi è Camberbatch Che c'entra Ah ok No non è Non è Stati Uniti Austria No secondo me è europeo No No non è vero Non è vero C'ho le scalinate A questi Stati Uniti Vai 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 Sono sicuro San Francisco San Francisco Vai 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 Ma dai C'ho le scalinate americane C'ha Vienna C'ha le scale inabili C'è Montreal O Vancouver Montreal Metti Montreal Allora guardando le macchine Siamo in Canada Effettivamente Guardando le macchine Era molto strano Abbiamo detto America Perché c'era proprio la scalinata Anche tipica Poi c'è anche in Inghilterra G Park TH TH Thailandia Thailandia Bancao Vicina Singapore Volerei da te da Milano Fino a Bangocchi A Bangocchi lo diceva Nuova Amsterdam E l'ha scritto alto come stop Dove lo scrivono alto come stop E' alto là Alto là Signora Ma è tipo il Perù E' il Torito E' il Perù secondo me C'è il Perù Madero Frontera Comiglia Madero Madero però è brasiliano Madero Materias Primas No però è spagnolo No secondo me è il Perù E' il Torito E' il Perù Non c'è il Perù Allora vai di Messico Quindi alto è in Messico Alto là Alto là Speedhams Questo è America ragazzi Stati Uniti Cazzi Quale però Sembra Vediamo se vediamo qualche skyline Particolare No no Che belle quelle case qui ho Quanto mi piacciono le casete così Sono i soborghi delle città principali Quanto mi piacciono quelle case San Francisco Puoi essere anche New York O Washington A me è San Francisco Non era Washington San Francisco San Francisco dici Era San Francisco Ma quelle case lì sono troppo belle Sono belle sì Troppo troppo le amo Quelle case lì Le faccio su The Sims Mi scarico questo a 4 euro Lo compro No Australia No C'è una bandiera gigante E' la Quella sud-est asiatico Bravo Il tempo E' il tempo E' il tempo Nuova Zelanda L'Ungheria Era l'Ungheria Era l'Ungheria Non c'è stato il tempo You are now a master hiker Siamo stati primi anche qua No secondi Troppi biscotti tonight Amici è stato E' stato Faigo Dai Oggi siamo stati anche bravini Amici siamo stati dei campioni A dir poco Però la streak Però amici Fatemi fare una cosa Allora Innanzitutto Facciamo così Poi Amici Faccio questo Di nuovo questo piccolo spoiler Perché da domani è Natale A parte il bannerino che esce fuori del nuovo merch Punto esclavativo Merch Alencia Merch Per andare nel nostro shop Ad acquistare gli incredibili capi di abbigliamento termosifonici Vi faccio un piccolo spoiler Vi faccio un piccolo spoiler di cosa partirà da domani Occhi aperti ragazzi Occhi aperti Occhio aperto A posto A posto Mi raccomando scaricate Da domani mattina Per domani sera scaricatevi Crab Game E per domani mattina Scaricatevi La vista oculare Che andiamo avanti su Farming Simulator Con estrema eleganza Tra l'altro Sì 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 Vi lasciamo da gatto Gli dite scemo Con delicatezza però Non scrivete proprio scemo Girate cintura Girate cintura Non sei particolarmente Attivo No sì così un po' Boh Non saprei Ciao belli A domani